Non siamo né terroristi né camorristi come ci identificano e come ci chiamano, ma siamo semplicemente degli studenti che manifestano e che hanno dei problemi, dei problemi veri e che esistono da anni. Manifestiamo anche contro le varie riforme che si stanno per approvare qui in Italia. Sono contrari logicamente a quello che sta succedendo, ci impediscono di lavorare, ci impediscono di garantire un diritto allo studio alla maggior parte dei docenti che vogliono invece fare lezioni. Il problema è che non avanzano nessuna rivendicazione, almeno nel nostro caso. Sono ridicole le rivendicazioni che fanno, non c'è neanche una forma di opposizione o di politicizzazione, assolutamente nulla. Una cosa è fare delle proposte, discutere, portare alla luce problematiche, per cui ci sono le strade giuste per poterlo fare e la scuola lo prevede. Altro è invece fare cose che non sono legali, perché quella che sembra diventata una cosa normale, occupare una scuola, in realtà è qualcosa di illegale. Dopo le occupazioni e le polemiche dei giorni scorsi, un momento di riflessione su questo tema specifico si è avuto oggi nella sala dei baroni del Maschio Angioino, dove l'assessorato alla scuola e la commissione Scuola del Consiglio Comunale hanno convocato una consulta sul tema delle occupazioni scolastiche, in un incontro aperto a tutti i soggetti più coinvolti, docenti, genitori, alunni, dirigenti ed operatori. È un fenomeno che negli ultimi mesi e negli ultimi anni abbiamo visto ripresentarsi nelle scuole con maggiore evidenza, tanto che l'amministrazione in più momenti ha chiesto a Prefettura e a Questura di monitorare qual è la condizione della sicurezza all'interno delle scuole. Per esempio noi abbiamo avuto scuole vandalizzate dove non ci stava nessuna occupazione in corso, per cui evitare di mettere insieme quelli che sono i fenomeni della violenza di strutture criminali e invece delle lotte che portano avanti in maniera anche giusta gli studenti della nostra città. Continuare a parlare di rito delle occupazioni sta diventando esso stesso un discorso rituale. Noi pensiamo che ci siano delle incrinature che dalla violenza visibile passano al disagio invisibile che forse bisognerebbe cominciare a cogliere, capire che cosa ci dicono gli studenti con i loro cosiddetti riti e soprattutto quanto può servire riannodare i fili di una relazione, un patto tra le generazioni che è quello su cui si fonda la certezza della scuola.